Da segnalare un terremoto ieri a Roma, 23 giugno 2019, di magnitudo 3.7, alle ore 22.43 della sera ovviamente, che ha colpito diverse zone della capitale. Il bicentro nei pressi dei castelli romani, mentre i toghi di colonna. Il sisma in questione è stato percepito però anche ai castelli romani, ripeto, a Ostia, nel ritorale romano e a Fiumicino. Molti l'hanno sentito, tanto che si sono riversati su Facebook e negli altri social network diversi commenti, che ovviamente sono stati di manifestazione del terremoto in questione. Il bicentro ha circa 15 pilomini della capitale, ma i pilomini di profondità, precisamente del comune di Colonna, provincia di Roma. E molti sono andati a cercare informazioni sul sito internet dell'INGV, causando ovviamente un vero e proprio sovraccarico nel sito web in questione. Grazie a tutti per la visione di questo video. Ne sono intervento per fortuna a Roma per quanto riguarda gli eventuali danni a cose o a persone, infatti non ci sono stati. Anche perché la scossa è stata di lieve intensità. Grazie ancora a voi al prossimo video da Leandro, narratore italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.